In questo video andremo ad esplorare la line quest di Dane Foglia Mort che è un NPC che troverete facendo ingresso nelle rovine di Mort, proprio attaccato all'NPC troverete una grazia e vi dirò in seguito il nome e per interagire con lui dovrete sfidarlo a duello perché cliccando sul suo NPC non interagirà, vi usciranno solo tre puntini di sospensione e sarà un po' difficile capire. Esattamente per sfidarlo dovrete usare l'emoticon Vink che è il migliore, quella che vi mostrerò in questo momento nel video, dopodiché verrete teletrasportati in un altro luogo che in realtà è sempre il stesso luogo dove ci sarà Dane che vi attaccherà con le sue portentose arti marziali. Il mio consiglio è quello di tenervi a distanza e infliggere danni da sanguinamento se avete la build come la mia, altrimenti potrete insomma infliggere altri tipi di danno, non credo che sarà una battaglia molto difficile. Al termine della battaglia vi dropperà i suoi guanti e il suo cappello e in seguito nel prossimo video vi mostrerò dove trovare gli altri pezzi della sua armatura. Grazie a tutti.